Grazie Roby, grandissimo! Noi diciamo che la sua visiera sono i nostri neri! Quindi fate le sentire! Vai Roby, vai! Guarda che basta prendere il 5 del pubblico! Bravo, bravo! Dategli al 5, non abbiate paura, non mordere! Non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura! Bravo! Ciao! Sì, prova, prova. Cominciamo a portarci nel centro del piazzale, qui del circuito di Ibra, facciamo un acclauso. Facciamo un acclauso, passiamo le sentine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.